Secondo me più poveri restano fuori, questa è la mia sensazione, c'è molta delusione, un grande investimento di risorse economiche sottratte ad altro, credo che i veri poveri rimarranno fuori, un po' di gente ne usufrirà, però verrà ingannata perché lo sarà per pochi mesi, poi si dirà che avranno un lavoro, il lavoro non lo troveranno e noi ce li troveremo come sempre, come stamattina con i bross sotto Palazzo San Giacomo. Noi siamo invece per dare risorse ai veri poveri e soprattutto dare risorse per il lavoro, perché il lavoro serve a dare dignità alle persone, a farle sentire protagoniste il proprio destino, avere una retribuzione adeguata, credo che ci sia stata una grande operazione anche qui ingannevole e propagandistica che è molto legata alla campagna elettorale che si sta per cominciare per le europee.